mg zs più la guida e più mi piace ragazzi ho appena ritirato questa nuova nuova mg zs stesso allestimento delle precedenti le potete vedere nei miei video e devo dire che la qualità costruttiva di questa macchina e livello qualità prezzo top è veramente top anche perché più la guardo più la guido e più mi accorgo che è una macchina ben fatta curata nei dettagli mi avete chiesto di fare un video sui consumi però queste sono troppo nuove quindi il motore non è ancora rodato e il livello dei consumi sarebbe falsato dal fatto che il motore è troppo nuovo ma perché vi dico che è molto curata nei dettagli a parte che il livello di verniciatura è veramente molto molto buono ma soprattutto dalla cioè dalla qualità degli allineamenti la macchina è allineata perfettamente in ogni sua parte il livello dei dettagli lo stesso è molto molto buono belli questi cerchi in lega da 17 bicolore con il logo mg cioè le cromature sotto la sotto la porta le cromature sopra le maniglie questa versione alla chiave comfort quindi o la prela chiudo in questo caso vedete io ho cliccato però l'auto suona e mi avvisa che la chiave è a bordo io entrambe le chiavi a bordo però veramente ragazzi è veramente veramente ben fatta guardate anche le cromature sulle portiere poi notato veramente piccoli dettagli i sensori di parcheggio in molte auto hanno una una plastica intorno che è rigida questi hanno una plastica intorno che è gommosa e molto morbida poi ripeto la qualità costruttiva cioè l'assemblaggio è veramente fatto molto molto bene la retrocamera ce l'ha qua davanti come vi ho detto la retrocamera non è eccellente di qualità però cioè fa il suo dovere non è che mi devo guardare qualcosa in 4k ragazzi comunque molto 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 bella il tappo del serbatoio si apre dall'interno vi faccio vedere si apre da qua e qua abbiamo l'apertura del cofano io guardo molto di piccoli dettagli nelle auto questo c'ho appena fatto il pieno guardate dopo del serbatoio lo stesso è senza chiave e c'è come molte auto ha il poggia tapo che si poggia qua e questa è la sicura per la chiusura il cofano ve l'ho già fatto vedere il cofano posteriore ve l'ho già fatto vedere in un altro video questo è il kit che ti danno quando lo compri l'unica cosa che a me non piace è il kit di riparazione perché col kit di riparazione in caso di rottura della gomma a parte che c'è tantissima gente non lo sa utilizzare però in caso di rottura di gomma è inutile quindi alla fine sarei avrei preferito quest'auto con una ruota di scorda anche normale senza cerchi in lega però almeno con una ruota e un kit per cioè col cric le chiavi per smontarti la gomma come vi ho fatto vedere in un precedente video poi ho visto che ce ne sono anche altri video di di questa vettura molto molto curate poi c'è l'apertura e la chiusura alle sicure delle porte e qua ai comandi del dei sedili elettrici o sono velocissimi e i sedili sono veramente molto molto comodi questi sono i comandi degli specchietti retrovisori qua giù c'è l'abbattimento e qua c'è la regolazione dell'altezza dei fari qua abbiamo il cruise control ce l'abbiamo qua giù e invece qua abbiamo tutti i comandi dei fari qua c'è naturalmente auto e tutte le varie tutti i vari settaggi che si possono fare veramente veramente ragazzi appena ritirata come vi ho detto guardate cosa c'era dentro questo è tutto in cinese io non lo capisco naturalmente però macchina veramente ben fatta fatto il pieno non ve lo faccio leggere però vi faccio leggere i litri e sono 41 litri e 95 quindi quasi 42 litri il il serbatoio che poi nello scorso video non ho aperto il il vano sotto il bracciolo e anche questo è abbastanza profondo cioè ce ne sta roba non è non è refrigerato alcuni hanno il vano refrigerato invece questo non è refrigerato comunque ragazzi molto 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 valida come macchina qua c'è il tasto di di accensione e spegnimento anche il pomello del cambio automatico io l'adoro col cambio automatico ha il logo mg rialzato ormai le auto sono tutte non fumature quindi alla presa a 12 volt col tappino molto 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 curata un'altra cosa che vado a guardare sempre nelle auto di nuova costruzione è praticamente cosa c'è sotto il cofano motore ossia come assemblato e come sono posizionati tutti i vari componenti tipo scatola porta fusibili se c'è il il pannello fono assorbente all'interno perché come avete visto in alcuni miei video c'è in molte macchine nuove non mettono neanche più il pannello interno fono assorbente ma andiamo a vedere in questa se c'è io ancora non l'ho aperto sono al ridosso dell'aeroporto ed è appena atterrato un aereo adesso andiamo a aprire il cofano la leva è questa e andiamo subito a vedere dovrò mollare il telefono perché sicuramente devo agganciare il cofano e come mi aspettavo anche la qualità costruttiva interna dell'auto è veramente molto buona ma vi faccio vedere dei piccoli particolari generalmente le auto nuove hanno solo queste sono delle viti in plastica invece questa ha anche questi dadini col segno della vita perché sembra molto più resistente una cosa che mi piace è la placca coprimotore e naturalmente il pannello che in moltissime auto di adesso non c'è la fusibiliera è ben piazzata e tutti i pezzi sono veramente messi bene anche perché li vedo che hanno dei dei dadini non hanno delle classiche spinette in plastica la batteria non ha il copri batteria come molte ma per me molte volte è inutile il copri batteria la qualità degli dei cablaggi sembra abbastanza buona e nel motore c'è anche spazio per lavorare alla fine il vano motore è ben curato sono tornato a bordo perché c'è un via vai di aerei enorme e adesso andiamo ad accendere andiamo a parcheggiare questa auto ripeto ragazzi vi farò un video sui consumi una volta che l'auto viene rodata un po quindi verso settembre ottobre riuscirò a fare i video dei consumi effettivi delle auto perché me ne prenderò una ci farò il pieno e ci viaggerò costantemente tutti i giorni per vedere alla fine a quanto consuma una cosa importante dove l'ho acquistata mi hanno detto che un loro parere poi io lo prendo con le pinze perché non lo so non l'ho provata che il motore 1000 ossia questo da 111 cavalli è migliore del 1500 che il 1500 è un po più fiacco io non l'ho provato quindi non posso dire niente quando proverò anche il 1500 alla fine darò il mio giudizio però per ora per me questo motore è valido questa macchina è valida io vi dico che questa macchina che super accessoriata costa all'incirca 20 mila euro e per 20 mila euro io la comprerei assolutamente sì è una macchina da comprare se devo fare un paragone con la dacia duster perché alla fine mi hanno detto no non puoi fare un paragone con la t rock ma devi fare un paragone con la dacia duster perché è quella che si avvicina di più a questo veicolo ecco se devo fare un paragone con la qualità costruttiva della dacia duster non lo posso fare perché questa macchina è molto molto superiore alla dacia perché ha una qualità costruttiva questa veramente impeccabile costruita bene carrozzeria buona allineata bene io sono figlio di carrozziere quindi queste cose della carrozzeria mi piace andare a guardarle e vedere come sono fatte le macchine poi ripeto anche la cura nei dettagli e metterci un pannello fonoassorbente dentro a mettere delle viti al posto delle delle placchette in plastica che alla fine si cuociono e si rompono queste sono delle piccole cose che però fanno sì che la macchina duri nel tempo contate che queste macchine come ho già detto in vari video sono garantite sette anni e 150 mila chilometri quindi la casa costruttrice sa che ha fatto una macchina di buona qualità quindi la può garantire e quindi è una macchina che per me vale va è un affare cioè quello che costa se facciamo un affare a comprare un'auto di questo segmento anche perché oggigiorno 19.000 euro prendi un'utilitaria non accessoriata comunque ragazzi se volete sapere altre cose di questa macchina non avete che da chiedermelo ma lo scrivete nei commenti se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e niente attivate la campanella carico costantemente nuovi video appena ho tempo carico qualche video per oggi dalla MG ZS è tutto vi farò altri video perché mi piace questa macchina e ci vediamo presto arrivederci